Single paradiddle, paradiddle classico, ok? Via! Grazie a tutti! Allora, vi ricordo che questi tre video possono essere eseguiti anche molto lentamente, ma va tenuto l'ostinato, doppi colpi, due colpi cassa, due colpi shuttleston, ok? Alla velocità che più vi conviene, rilassate, respirate, mantenete la posizione e buono studio, ok? Più in là pubblicherò anche un altro video con tutti e tre i rudimenti, sempre con l'ostinato doppia cassa, doppio charlie, ok? Due colpi di cassa, due colpi di charlie, quindi paradiddle singolo, paradiddle doppio, paradiddle... triple paradiddle, scusate, ok? Uno, due, tre, e poi tornerò indietro, tre, due, uno. Buono studio, ciao! 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 Grazie.